Screencast-O-Matic è un'applicazione che non necessita di essere scaricata nel nostro computer e che quindi è funzionale allo scopo di registrare video lezioni di 15 minuti il tempo dell'attenzione considerato ottimale affinché i nostri alunni possono comprendere quanto spieghiamo basta andare sul sito Google e cercare Screencast-O-Matic immediatamente verremo indirizzati alla pagina del software abbiamo la possibilità di utilizzarlo senza iscrizione oppure iscrivendoci abbiamo la possibilità di avere alcune funzionalità in più io mi sono iscritta quindi accedo con il mio account perché mi sono iscritta? perché così ho a mia disposizione uno spazio all'interno del quale posso mantenere caricati i miei video o le immagini con un sistema anche di organizzazione a cartelle se voglio oppure posso poi alla fine gettare via il video che ho fatto e che magari non mi serve non è una condizione necessaria perché quando registro un video vedrete che posso collegando il mio account del mio canale YouTube tranquillamente caricare questo video registrato all'interno del mio canale YouTube iniziamo immediatamente col fare partire attraverso questo pulsante il recorder il quale mi darà alcune possibilità mi scaricherà un piccolo software davvero piccolo all'interno del computer che semplicemente sarà quello che si attiverà nel momento in cui dovrò fare la mia video lezione mi dà tre possibilità o registrare l'intero schermo e a quel punto si aprirà immediatamente un delimitatore di spazio nello schermo tale per cui io potrò decidere di delimitare lo spazio dello schermo che intendo registrare oppure potrò utilizzare la registrazione esclusivamente attraverso la videocamera quindi se devo fare un messaggio in cui è necessario che venga semplicemente ripresa la mia faccia ho la possibilità di avere la mia faccia in posizione che posso anche modificare a seconda di dove voglio metterla e poi sempre la possibilità di avere la porzione di spazio di testo del mio schermo stesso normalmente questa è la funzione schermo che io utilizzo perché mi dà la possibilità di non avere l'ingombro della mia faccina che in quel momento non è funzionale se io per esempio devo condividere una pagina di un libro di testo piuttosto che un sito web o quello che mi serve in quel momento per spiegare la mia lezione con gli alunni basta che appunto seleziono lo schermo è intero e inizio a lavorare non devo settare nulla dalle preferenze perché già lui va ad individuarsi la sua telecamera il nostro registratore, il nostro audio e quindi sostanzialmente non occorre toccare nulla quello che devo invece toccare è questo pulsante rosso il quale quando lo piggio mi darà 3 secondi per ecco via da questo momento in poi ho a mia disposizione 15 minuti che scorreranno in evidenza in questa barretta che rimarrà qui in basso e che chiaramente dovrò sempre guardare per tenere conto del tempo che ho ancora a disposizione per realizzare la mia video lezione certo dobbiamo cominciare a costruire una video lezione chiara, semplice, efficace e quindi breve i 15 minuti sono funzionali se dobbiamo fare una lezione un po' più corposa perché più significativa di contenuti più ricca di contenuti sarà il caso magari di farne due e quindi in maniera più funzionale anche ad un apprendimento reale dei ragazzi stessi dividere gli argomenti sui quali fare le videoregistrazioni con i 15 minuti a disposizione io posso fare un lavoro significativo per i miei ragazzi però posso anche decidere di fare una videoregistrazione di qualche minuto a quel punto basterà cliccare sul pulsantino della pausa ed interrompere cosa ne faccio di questo minuto e 17 che ho registrato? posso buttarlo via se non è andato a buon fine oppure posso semplicemente dire che è fatto è concluso e si aprirà questo nuovo schermo in cui trovo scritte tre opzioni ho la condivisione veloce nel caso in cui voglio immediatamente ottenere un link di questa mia registrazione e quindi condividerlo con qualcuno a cui voglio mandarlo e quindi in questo caso è necessario avere la registrazione che vi ho detto prima perché così lui questa breve nostra registrazione se la andrà a caricare nel nostro spazio a disposizione che Screen Customatic ci dà oppure posso registrarla direttamente io o sul mio computer oppure in questo caso sullo spazio di Screen Customatic o ancora ed è quello che vi consiglio sempre di fare all'interno del nostro canale YouTube cliccando infatti qui io ho già il mio canale YouTube logato all'interno di Screen Customatic e quindi in maniera immediata senza necessità ogni volta di andare a definire quale account utilizzare di YouTube lui in automatico mi caricherà sul mio canale YouTube qualsiasi registrazione potrò modificare il titolo e mettere per esempio gli uomini primitivi ho la possibilità di aggiungere se voglio una descrizione dei tag di riferimento per trovare poi questo video posso poi decidere se dare la possibilità a chiunque di vedere il mio video caricato nel mio canale o se invece lo voglio rendere privato o se ancora lo voglio mantenere non in elenco che è l'opzione che io metto sempre perché in questa maniera il video si caricherà su YouTube sul mio canale YouTube e potrà essere condiviso con un link con i miei alunni i quali se lo ritroveranno all'interno del mio sito web didattico cliccando su pubblica lui andrà a pubblicare questo video all'interno come vedete del mio canale YouTube quello che dovrò fare in seconda battuta sarà interrompo intanto questa pubblicazione che a me non interessa ma sarà condividere da YouTube il video con gli alunni ma questo è oggetto di una seconda spiegazione che farò attraverso un prossimo video 15 minuti bastevoli per fare un ottimo lavoro ecco via da questo momento in poi ho a mia disposizione 15 minuti che scorreranno in evidente sentite come l'audio è perfetto come la videoregistrazione è ottima sono queste le caratteristiche di Screencast-O-Matic una soluzione veloce, facile, semplice anche da utilizzare ma soprattutto non invasiva perché non necessita di alcun scaricamento di software all'interno del nostro computer e questo è sicuramente un'opzione importantissima per evitare di avere la memoria del computer occupata e questo è sicuramente un'opzione importante